Bene, troppo che andiamo a prendere una nuova cosa Già, l'abbiamo già presa Oh davvero, quante stanze ci sono? Beh, secondo i miei colcoli, due o uno, non lo so, poi vediamo Sì Bene, intanto, beh, ci stiamo perché noi adesso andiamo a dormire Siamo stanchi con la Playstation Ragazzi, ci serve anche una seconda parte, ricordatevelo Bene, adesso cominciamo Grazie mille Di niente, ho sentito che avete una nuova casa Già, ma adesso devo cominciare il lavoro Bene, a dopo, a dopo Prendo il bus e me ne vado Bene La padella la mettiamo qua Fa il bucato Sì Oddio, loro avessi tipo zanzacca Perché li mettono qua? Oddio, mi sono indossata Facciamo così Quanto puzzano Puoi aver il pigiama Veloce Bene Mettiamo questi vestiti Poi questi qua E rimutiamo Padre